Io ho un po' cambiato l'idea che avevo della presentazione, un po' in funzione dei tempi, un po' di quello che è saltato fuori questa mattina, perché questa mattina secondo me è stata una mattinata, non lo dico per piageria, ma è stata una mattinata interessantissima, sia con i temi trattati e sia come sono stati trattati dai relatori e quindi volevo ringraziare Carlo, Fabio, Rosella e tutti quelli che hanno contribuito a impostare questo pannello di interventi. Giardini storici che sono un tema fondamentale di cui se ne parla tantissimo, io ho cominciato a studiarli ancora appena laureata e dopo le prime diapositive che vedremo, Alberto Minelli citava prima il professor Chiusoli con cui appunto anch'io ho lavorato, mi sono laureata eccetera e uno dei primi progetti, lo vedremo dopo, fu la sistemazione del giardino, di parte del giardino di Palazzo Ercolani a Bologna nell'ambito del nono centenario dell'università, dei fiatteggiamenti del nono centenario dell'università. Però prima di vedere questa piccola presentazione che ho fatto, mi piaceva fare alcune considerazioni generali sui giardini storici. Innanzitutto stamattina credo sia risultato in maniera evidente che c'è una consapevolezza assolutamente rinnovata su questo tema, un interesse e anche una disponibilità economica che non c'è mai stata in passata e questo grazie al lavoro e guardo appunto Giuseppe Lamastra di tanti all'interno del Ministero, all'interno di Abge eccetera che hanno sollecitato e supportato e portato avanti quel lavoro che fino a un certo momento era stato fatto credo soprattutto dalle università e quindi invece questa correlazione fra università e ministero e pubblica amministrazione e nell'accezione appunto di ministeri diversi rispetto a quelli dello studio e della ricerca sia importante. La seconda questione che mi preme evidenziare che ha un po' tirato fuori invece Eraldo Antonini, collego un po' di cose, Carlo sono l'ultima, mi sembra, mi sento, mi sembra no perché poi così arriviamo a parlare di quello che era un po' il mio tema, è la definizione di giardino storico che è un tema apparentemente capriccioso o di puntiglio ma che invece è un tema a mio avviso sostanziale, a nessuno verrebbe mai in mente di scambiare un triciclo per un'automobile perché sono due cose completamente diverse e lo sappiamo tutti e quindi se io dico sono venuta in triciclo e poi ho un'auto anche modesta però uno dice questa è stordita. Ecco parlare di giardino storico quando in realtà non possiamo definire quel luogo nell'accezione classica del giardino storico, accezione classica del giardino storico che c'era già, stamattina ancora non è stata citata ma la carta dei giardini di Firenze, dei giardini storici redatta a Firenze nel 1981 è un documento cardine importante di 41 anni fa in cui per la prima volta si dava una definizione di giardino storico che veniva esattamente definita come un luogo specifico quindi un monumento a tutti gli effetti con un valore storico documentale monumentale. Ieri perché poi c'è questa sempre a testimonianza di questo fervore che c'è adesso sui giardini storici, ieri e oggi a Miramare, nel parco di Miramare a Trieste c'è un convegno, ci sono due giorni di convegno proprio sui giardini storici e ieri Bionella Scazzosi nel suo intervento di apertura diceva passiamo da giardino storico come opera d'arte da conservare e contemplare a bene comune quindi da patrimonio da difendere a risorsa molteplici. Ecco secondo me questa affermazione di Bionella fatta ieri a Miramare ha un valore importante cioè continuiamo a considerare il giardino storico un bene importantissimo, non ha più solo il valore di opera d'arte da conservare ma anche un'accezione di bene comune e di patrimonio che è una risorsa molteplice. Nel titolo del mio intervento io avevo chiesto appunto che si inserisse la parola, il termine legato appunto alle infrastrutture verdi perché io credo che tutti gli spazi di valore storico e qui mi piace appunto ricollegandomi a quello che dicevo prima parliamo di giardino storico e Deraldo Antonini prima ci ha dato una puntualizzazione di quello che dobbiamo considerare giardino storico ed è un'accezione precisa per determinati luoghi conservati in un determinato modo. Ciò non toglie che a mio modestissimo parere ci debba essere una valorizzazione, una cura e un valore da crescere per tutti quegli spazi aperti di valore e mi fermo qui che sono e riprendo quello che stamattina ci hanno presentato Fabio Falleni e Giovanna Daniele, tutta quella serie di spazi aperti legati a edifici tutelati in alcuni casi in cui c'è la tutela del giardino ma in tanti casi in cui la tutela del giardino non c'è e in tanti casi in cui un giardino non c'era e vedremo dopo nella breve carrellata che vi farò vedere che in tanti luoghi soprattutto quelli che non sono le grandi regge, le grandi residenze, i grandi parchi o musei verdi come appunto si diceva ieri a Miramare, quindi il giardino di Miramare legato al castello piuttosto che Capodimonte, piuttosto che la venaria reale eccetera eccetera, sono comunque, il nostro paese è ricchissimo di spazi di valore che hanno un'accezione, di spazi aperti di valore che hanno un'accezione fondamentale e che devono essere tutelati, salvaguardati perché ci servono per fare da una parte quella rete, quella infrastruttura paesaggistica, iconografica, ecologica, turistica che è una delle caratteristiche salienti del nostro paese e dall'altra parte ci permette di valorizzare e tutelare un numero infinito di beni molto superiori rispetto a quelli che sono i giardini storici che ad oggi, 2022, ci sono arrivati con, secondo quella che era l'accezione iniziale e la progettazione e realizzazione iniziale o una progettazione modifiche successive ma di cui abbiamo ampia documentazione storica, documentale e di presenze vegetazionali piuttosto che architettoniche legate alla struttura vera e propria del giardino, cioè quello di cui io mi sono resa conto ormai, ahimè, in tanti anni di professione è che i casi in cui ci si trova ad avere del giardino una storia univoca, definita e consolidata e condivisa dalle varie figure che hanno studiato quel giardino sono veramente, mi viene da dire, li possiamo limitare sulle dita di due mani, forse sono un po' di più però in realtà sono veramente poche, ma abbiamo i mille luoghi solo nella nostra regione eccetera quindi questo secondo me è un tema che a me è molto caro e credo sia importante, ecco perché mi piace parlare di giardini storici e di spazi aperti di valore che sono tutti gli altri e che sono bene comunque che a mio avviso il ministero deve comunque aiutare, valutare e tutelare, le amministrazioni locali devono valorizzare e tutelare, dicevo spazi aperti di valore, poi ci vogliamo aggiungere l'aggettivo storico o come a me piace di più spazi aperti di valore iconico perché in realtà non è solo la storia di quel luogo ma è il legame visivo anche solo virtuale che almeno la comunità locale ha per quel luogo. Garofalo che mi dispiace appunto non sia più in sala ma ci parlava di dell'enorme valore che quella che era la reggia di Caserta, scusate la reggia di Rivalta di cui ormai veramente ci sono solamente dei lacerti di quello che era il giardino storico nell'accezione classica del termine, hanno invece nella comunità di Rivalta, di Reggio Emilia e quindi tutti quelli che sono stati i temi legati a questo grande progetto. A me viene da dire di realizzazione di un parco in un luogo, uno spazio aperto di valore perché appunto del giardino storico vero e proprio poco c'era e mi viene da dire siccome nel nostro paese abbiamo tantissime cose meravigliose ma abbiamo anche la capacità sempre di appiccicarci o disperderci in quisquiglie formali, mi verrebbe da dire siccome siamo in una platea tutta di non solo di tecnici ma anche di esperti e di professionisti che lavorano nel tema degli spazi aperti mi verrebbe da dire spezzo una lancia a favore del dire non litighiamo, non perdiamoci nelle questioni formali, minimali ma pensiamo a quello che è il bene, quelli che sono i beni, le norme patrimonio di beni che abbiamo da valorizzare e da tutelare. Mentre parlo avevo preparato una breve presentazione con alcuni progetti che appunto ho seguito nel corso degli anni e ne ho selezionati alcuni di spazi aperti appunto di valore che si sono susseguiti nel corso degli anni perché mi piaceva appunto mettere semplicemente in evidenza che ci sono delle differenze enormi non solo di tale spazi ma anche delle differenze enormi di uso di questi spazi, di situazioni iniziali di stato di fatto di questi spazi. Le prime diapositive che sono scorse dicevo appunto sono quelle di Palazzo Ercolani, quindi un giardino all'interno della città di Bologna in strada maggiore di proprietà dell'università. Io collaborai col professor Chiusoli che doveva semplicemente andare a ritrovare, delimitare uno spazio all'interno di questo cortile interno che venisse destinato solo agli studenti dell'università perché lo spazio nella sua globalità aveva un valore pubblico. Quindi scelte che da un punto di vista progettuale se si parlasse di giardino storico sarebbe un termine assolutamente improprio perché è stata fatta un'operazione completamente errata rispetto al valore storico di quello spazio ma che a mio avviso invece ha avuto un valore importantissimo in quanto ha reso disponibile un piccolo spazio di poche decine di metri quadrati che erano precluse a tutti e che sono invece diventati un luogo per gli studenti dove in maniera molto leggera perché le piante, è vero che gli alberi, Alberto Minelli oggi diceva, ci parlava di alberi monumentali incredibili per quali fare operazioni incredibili, ottimo e che hanno dei tempi di un certo tipo ma ci sono gli arbusti, ci sono le piante erbacce, ci sono tante cose che si possono utilizzare anche in maniera molto più semplice ed utile che si possono mettere immaginando che poi fra 5, 10, 20 anni possano essere anche spostate o eliminate senza che stringa il cuore perché si è andata ad abbattere una pianta che ormai sta sviluppandosi eccetera. Quindi dicevo spazio pubblico di questo tipo. Il secondo esempio invece che vi volevo presentare è un piccolo spazio aperto pede collinare di quella che era una tenuta agricola, ci troviamo nella città, io dico nella città di Bologna ma in realtà in tutto il territorio nazionale abbiamo mille, 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 mille case di campagna che poi sono state trasformate in case di città con uno spazio esterno che era in larga misura un spazio di coltivazione, un'azienda agricola dove il pragmatismo emiliano romagnolo fa sì che Anna Maria Matteucci parlasse di giardino campagna che guarda caso è stato utilizzato per soprattutto l'Emilia Romagna. Da noi l'idea di riservare al giardino un piccolo spazio della tenuta perché tutto il resto doveva produrre è una cosa che c'è stata nei secoli quindi buona parte delle nostre case di campagna avevano uno spazio molto molto piccolo dedicato al giardino, al ricevimento degli amici durante la villeggiatura estiva e tutto il resto era invece coltivato. Allora sono spazi aperti però secondo me di valore sono edifici importanti e il fatto che ci siano dei proprietari anche privati che con scelte permettetemi anche in alcuni casi artite da un punto di vista architettonico ma che salvaguardino in questo piccolo giardino c'è alcune querce meravigliose, monumentali ecco solo quello secondo me ha un valore importantissimo. Per quello che riguarda sempre i giardini privati e il finanziamento, il bando appunto di pochi mesi fa, Giuseppe prima metteva in evidenza e dopo anche Alberto Minelli che i privati rispetto al pubblico in alcuni casi garantiscono una continuità di gestione, di manutenzione di gestione maggiore perché c'è un attaccamento anche proprio così emotivo o familiare, non è sempre vero ma in alcuni casi c'è ma pensiamo anche che i privati nel momento in cui invece per motivi ereditari o quant'altro il bene viene, passa a qualcuno che non ha più interesse per quello spazio cadono letteralmente nell'abbandono più totale e qui il tema sempre della conservazione e gestione se un edificio fin tanto che non si sfonda il tetto e permettetemi questo taglio un po' di e quindi con l'accetta però fin tanto che non si sfonda il tetto un edificio si conserva nei secoli e quindi quella che è la sua struttura ha una manutenzione o un degrado lentissimo per quello che riguarda il verde bastano 3, 4, 5 anni di abbandono e in alcuni casi si è perso completamente traccia di tutto o le piante esistenti hanno subito un degrado tale che diventa veramente difficile agire successivamente. Questo è un altro giardino e poi vado più, le aiuto, le diamo a passarle che è nella campagna bolognese di pianura, quello di prima vi facevo vedere un giardino pede collinare, questa è una vecchia villa settecentesca, anche questa è una villa tutelata con il giardino tutelato, del giardino non c'è assolutamente nulla, non si è trovato traccia di nulla, le ricerche storiche sono state fatte estremamente approfondite, gli interni sono veramente fatiscenti, perché? Perché il tetto è crollato e quindi alla fine e poi già nel passato erano successe tante cose e quindi trasformazioni d'uso pazzesche. Abbiamo cominciato a intervenire, abbiamo fatto i primi lavori, abbiamo fatto i primi abbattimenti eccetera eccetera, è arrivato il covid e la proprietà doveva realizzare una struttura ricettiva eccetera eccetera e ha deciso che non se la sentiva e quindi un evento assolutamente imprevedibile ha fatto sì che adesso ci sia un cantiere architettonico fermo e ci sia un cantiere paesaggistico fermo, nel senso che l'unica cosa che abbiamo fatto e ormai siamo a tre anni fa, si era comunque fermato tutto, avevamo fatto solo la messa in sicurezza, l'eliminazione delle piante più degradate, ma tutto quello che è il nuovo impianto non si è fatto nulla e sinceramente non so quando e come potrà nuovamente vedere la luce in un posto secondo me di un'importanza incredibile. Di un'importanza incredibile perché è una bellissima villa, perché è in un posto che veramente farebbe da rete di connessione, perché potrebbe essere all'interno di una serie di percorsi anche ciclabili o di visita nel territorio emiliano, estremamente significativa. Questo è un altro progetto invece che era stato presentato per il bando del PNRR, anche questo di un privato in Romagna, Forlimpopoli, e che in realtà non ha avuto il finanziamento. Quindi è un giardino, c'è una villa, prima avete visto uno o due foto degli interni affrescati, questo è l'esterno, vedete come la vegetazione ha veramente ormai inglobato questa doppia scalinata meravigliosa, di una grazia incredibile, dove ci sono degli esemplari pazzeschi, questo è credo il più bel cedro della regione, all'interno ci sono esatto due alberi monumentali tutelati eccetera eccetera, come si sia a livello nazionale assolutamente, quindi c'è questo, c'è una ginko incredibile, ma insieme a questo ci sono anche degli esemplari che non sono fra gli esemplari tutelati d'Italia, ma che hanno un valore incredibile. Il proprietario aveva deciso di partecipare al bando e avrebbe realizzato il giardino dicendo, cosa abbastanza inusuale, va bene intanto pensiamo al giardino e poi alla villa ci penseremo dopo, non avendo avuto il finanziamento ha deciso, ci siamo sentiti proprio nei giorni scorsi perché gli avevo chiesto l'autorizzazione di presentare queste immagini, ha deciso di soprassedere e questo è un peccato anche perché in realtà è un giardino privato, ma in realtà il privato l'aveva già aperto al pubblico, per anni ci hanno fatto feste dalle feste dei vari partiti, come si usava un tempo, quindi feste a sagre paesane eccetera eccetera, adesso molti alberi sono in condizioni critiche e quindi questa era una buona occasione, peccato si è perso questa cosa. E questa invece è la delizia del benvignante dove invece Ferrara, quindi una delle delizie estensi, dove in realtà siamo nella campagna ferrarese, si trova che spunto da nulla questa delizia come ce ne sono altre luoghi incredibili della follia lungimiranza degli estensi dell'epoca dove all'inizio degli anni 2000 l'amministrazione comunale siccome comunque i locali utilizzavano quello spazio, c'è una frazione che è una frazione di argenta che si chiama benvignante, lo utilizzavano e avevano volontà di avere uno spazio comune condiviso, in realtà cosa è successo? È stato realizzato un giardino di stampo moderno che non c'entra nulla con la delizia estense, anche qui in materiale storico è praticamente quasi nullo sul giardino, però in realtà è stato realizzato un giardino di cui si capisce immediatamente che nulla a che vedere con quello che c'era, vedete qui addirittura un laghetto veramente come un giardino pubblico di inizi anni 2000, ciò nonostante l'amministrazione ha deciso a mio avviso ora con lungimiranza di dire bene abbiamo utilizzato un fondo regionale per andare di forestazione intanto per perimetrare l'area con arbusti e piante arbore utilizzando quindi una sorta andando a realizzare una chiusura per preservare questo bene che tuttora è invece completamente aperto e dove in realtà immaginando in un futuro credo però piuttosto lontano poter pensare anche di smantellare l'intervento che era stato fatto assolutamente incongruo e che rende una lettura immediata di una così discrasia fra quello che è la reggia e quello che è il giardino. L'ultimo esempio invece che porto e così chiudiamo invece anche su un esempio di gestione perché poi alla fine ho detto solo alcune cose relative alle problematiche che ci sono sui giardini storici ai costi Alberto Minelli ci ha presentato illustrato ipotesi del terzo millennio ma che naturalmente è impossibile andare a presentare ai privati che davanti a costi è vero anche la pubblica amministrazione lui diceva il direttore di caserta ai 20 metri cubi di terreno da spostare si è messo le mani nei capelli il privato se le mette anche con un metro cubo da spostare quindi eh i temi sono molto molto diversi e ehm problematiche differenti allora questa è un eh i giardini di galleria borghese li conoscete tutti in realtà eh anche in questo caso si parla dei spesso dei giardini storici di eh galleria borghese in realtà c'erano i giardini storici c'erano i giardini rinascimentali all'interno della galleria ma pazzesco a dirsi ma di documentazione storica praticamente non c'è nulla eh sono stati ricostruiti eh fra la fine del millenovecentonovantanove e duemila eh con un progetto del comune di Roma e della sovrintendenza di Roma secondo un'ipotesi una ricostruzione inventiva ehm di eh giardino storico con quelle che erano le specie dell'epoca e quindi e con questo Carlo chiudo ehm inventando di fatto il disegno del giardino perché il giardino non c'era utilizzando però eh cioè non è che non c'era non c'è traccia di come era fatto scusatemi grazie eh Raldo che hai scosso la testa e ho avevo detto una cosa imprecisa i giardini c'erano assolutamente c'è documentazione che ci fosse ma non c'era non è stato trovato il disegno quindi il disegno è stato fatto secondo la moda dell'epoca all'inizio degli anni duemila sono stati usate piante che in quegli anni si trovavano nei giardini venivano utilizzate eccetera qual è il problema che abbiamo adesso per la manutenzione io sono consulente del RUP per la gestione di questi due piccoli giardini che il costo delle bulbose delle annuali la ehm deperibilità di questo materiale è talmente alto che è assolutamente insostenibile anche per l'amministrazione pubblica e quindi la domanda è possiamo immaginare di continuare o sono necessari adattamenti quindi il tema è aperto non ho dato delle risposte credo di aver fatto solo delle domande però eh ringrazio per essere stata qui con voi grazie